Grazie, è un grande onore per me presentare questo momento che idealmente completa un percorso legato al progetto Rururbal che abbiamo condiviso con i partner spagnoli, greci, francesi e degli amici della provincia di Siena, io idealmente prendo nel portarvi anche il saluto dalla nostra Italia il testimone dal presidente della provincia di Siena che è intervenuto stamattina e dicevo un grande onore nel ringraziarvi per aver voluto questo momento conclusivo in questa bellissima giornata di seminario, ringraziarvi perché è un onore per noi poter presentare idealmente la conclusione di un lavoro che ci ha visti impegnati in questi due anni ma allo stesso tempo e ce lo auguriamo che questo rappresenti la carta in primo luogo, l'avvio di un nuovo percorso non solo di buone pratiche ma di relazioni virtuose tra i nostri territori. La premessa è che la nostra Europa tanto martoriata e condizionata nel presente da difficoltà economiche ha bisogno di valori per rigenerarsi, ha bisogno di una coscienza forte della necessità che le relazioni tra i nostri popoli non solo rimangano ma si rafforzino. Che questa carta sia quindi anche al di là del contenuto specifico legato alle politiche di sviluppo territoriale, agricolo, sia soprattutto uno strumento attraverso il quale le nostre realtà territoriali, i nostri enti locali, i nostri stati possano sentirsi più coinvolti nel condividere le azioni per i futuri decenni e soprattutto che una grande intuizione che chi ci ha preceduto nei decenni precedenti, soprattutto dopo la fine della seconda guerra mondiale, quella grande intuizione che il futuro delle nostre genti poteva avvenire soltanto attraverso una relazione forte tra i popoli d'Europa, possa trovare nuove frontiere su cui svilupparsi. La carta ha questa ambizione che è un'ambizione forte ma che parte da un presupposto di cui tutti quanti abbiamo un grandissimo bisogno, la correlazione tra politiche diverse di settori che non possono andare ognuno per la propria strada, l'esperienza di questi due anni, di questo progetto europeo che non è un progetto europeo qualunque, io credo di poter testimoniare anche per i partner che firmeranno con noi questa carta quest'oggi, è un progetto europeo che lascerà il segno nei nostri territori, nello sviluppo di politiche negli anni che abbiamo davanti. E questo perché è un progetto che ci ha permesso di, da un lato, di conoscere ancora meglio i nostri territori, di compenetrarci delle rispettive esperienze. Io ho potuto partecipare soltanto nel pomeriggio di oggi ai lavori ma ho ascoltato con molta attenzione le esperienze che sono state illustrate dei modelli territoriali portati avanti dalle varie esperienze coinvolte nel progetto. Ebbene, Rururbal è importante, è stato importante per tutti noi perché allo stesso tempo ci ha permesso di conoscere le esperienze degli altri territori ma soprattutto di lavorare ognuno all'interno dei propri territori, io lo dico ovviamente per l'esperienza che abbiamo vissuto nella provincia di Torino, nel promuovere, nel valorizzare le produzioni locali. Quel valore della terra, quando parlavamo di valori, quando mi riferivo ai valori, uno di quei valori che vogliamo che sia assolutamente dominante nei ragionamenti e giustamente come si diceva nell'introduzione, non nella logica di elaborare un documento di intenti ma di linee di indirizzo per le azioni future che i nostri enti porteranno avanti in piena sinergia con i vari livelli territoriali con i quali siamo collegati. Quindi promuovere i prodotti locali ma altrettanto, e questo è un dovere di chi amministra la cosa pubblica, sviluppare buone occasioni di scambio, di informazione, di collegamento tra le persone, non soltanto di scambi commerciali ma di ragionamento, di sviluppo di iniziative tra le persone. Ciò che spesso manca in una società globalizzata che si è un po' dimenticata l'aspetto della correlazione tra le persone facendo prevalere la logica dell'individualismo. Allora, anche in questo Rururbal ci ha permesso di fare qualche salto in avanti, qualche buona pratica da sviluppare. Allora, proprio perché non fosse la giornata di oggi, le giornate che ancora completeranno questa esperienza, la prossima settimana avremo una bellissima due giorni in provincia di Siena nella quale si svilupperanno questi temi. Noi siamo reduci domenica scorsa da una bellissima giornata, da un bellissimo fine settimana a Torino in cui abbiamo cercato di declinare questo progetto fornendo a gruppi di acquisto solidale e collettivo, ai singoli agricoltori, la possibilità di interagire tra loro, di conoscere meglio i propri prodotti, di conoscere meglio le proprie esperienze affinché si possano produrre azioni concrete. Il momento, la carta che andiamo a firmare quest'oggi vuole da un lato trarre la summa delle cose fatte in questi due anni e ognuno ha esemplificato le proprie esperienze. La dottoressa Di Bella per la provincia di Torino che mi ha anticipato nell'intervento pomeridiano vi ha evidenziato le buone pratiche che abbiamo cercato di portare avanti attraverso un allestimento dell'agricola in una piazza centrale di Torino e altrettanto quel progetto sulla borsa annuale che abbiamo inaugurato nello scorso fine settimana proprio come scambio di esperienze tra gruppi magari anche eterogenei che non avevano familiarità nel parlarsi. Ma allo stesso tempo la carta vuole essere la summa di un lavoro svolto ma soprattutto l'avvio di relazioni virtuose che possano rimanere nel tempo. Allora noi nel nostro piccolo come provincia di Torino abbiamo cercato di declinare questo sguardo rivolto al futuro partendo già da nuovi progetti europei che stiamo sviluppando proprio in queste settimane sulla valorizzazione dei prodotti locali. È stato citato dalla dirigente che mi ha preceduto proprio la volontà di andare nella direzione di intervenire in maniera pregnante sulle mense scolastiche ma in una logica non solo di rafforzamento della filiera locale ma di insegnamento ai giovani e alle future generazioni sull'importanza di una sana alimentazione correlata a una conoscenza della provenienza del cibo e alla valorizzazione del territorio stesso che lo produce. Ho detto non a caso questi tre aspetti perché sono declinati nella carta come non intenti ma linee di indirizzo che i nostri livelli territoriali, le nostre province, regioni, città che hanno magari molto di diverso ma hanno molto in comune nel momento in cui vanno a ricercare di sviluppare questi tasselli importanti per il futuro dei nostri paesi. Aggiungo un aspetto che riteniamo importante e rappresenta nella carta un elemento assolutamente fondamentale, l'interazione tra politiche. Noi, in questo faccio una citazione legata al mio paese, l'Italia, abbiamo vissuto in queste settimane numerose situazioni di dissesto idrogeologico che hanno comportato ai noi devastazioni nei territori, ai noi morti di persone. Immaginare che i discorsi che abbiamo portato avanti anche in questo seminario, in questi due anni, siano slegati dalla corretta gestione del territorio, da politiche fondamentali come quelle sanitarie, dallo sviluppo di politiche culturali e turistiche, sarebbe assolutamente un controsenso. Dobbiamo immaginarci, ed è l'intento della carta, che noi non stiamo a prendere un impegno tra assessori all'agricoltura, presidenti di province o regioni o sindaci di città legate a tematiche specifiche, ma un impegno che va molto più in là, che è interagire tra tematiche che sono solo apparentemente diverse, ma che tutte incidono sul futuro nostro e dei nostri figli. Ed è per questo che si lega perfettamente a questa iniziativa un impegno che la provincia che questa sera ho l'onore di rappresentare in qualità di assessore, la provincia di Torino, ha declinato come principale impegno nei cinque anni che sta portando a compimento a livello amministrativo. La difesa del suolo, il dire basta a un consumo esasperato del suolo che ha determinato nel nostro territorio, della provincia di Torino, un eccesso di urbanizzazione non correlato poi da un adeguato sviluppo economico equilibrato dei territori. Allora anche il tema del consumo del suolo si lega perfettamente ai temi che sono inseriti nella carta e che sono un impegno concreto da parte di coloro che vanno a redigerla, a firmarla questa sera. Questo volevo anticiparvi e non voglio dilungarmi molto oltre, però ritengo che siano gli aspetti essenziali da rimarcare che vogliamo portare avanti in una logica di coinvolgimento, perché l'altra parola chiave che c'è in questa carta è partecipazione, è coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nella scelta del nutrimento, del cibo, della scelta di come alimentarsi. Quindi il cittadino consumatore condizionato troppo spesso da campagne dei mass media, magari di catene di grande distribuzione e meno dalle realtà locali, ma che noi dobbiamo come sistema pubblico essere capaci di coinvolgere in una scelta che sia non solo oculata, ma che vi sia quello scatto di cultura, quel cambio di visione che ha un po' caratterizzato in questi due anni il lavoro che è stato svolto. Per questo, per non fermarci a ricordare due piacevoli anni di lavoro insieme, ma per guardare come credo debbano fare le amministrazioni al futuro delle generazioni, delle prossime generazioni. Prendiamo questo impegno insieme questa sera, lo firmeremo tra pochissimi minuti, ma è anche un modo per che queste relazioni virtuose sviluppate in questi 24 mesi possano ulteriormente svilupparsi e creare i presupposti perché le nostre amministrazioni possano candidarsi a nuovi progetti di sviluppo del territorio assolutamente compatibili con gli impegni che andiamo a sviluppare questa sera. È un modo concreto per dare forza a quelle parole magnifiche che sono state proiettate nel video di questa mattina di una cara persona che non più, che però ha lavorato fortemente a questo progetto. Anch'io la voglio citare in conclusione, Maria Teresa Battaglino, che nel momento, diciamo, nei momenti anche più difficili perché creare iniziative concrete di coinvolgimento nei vari territori è tutt'altro che semplice, ma che aveva sempre chiara e ribadiva una frase fondamentale. Abbiamo una sfida davanti enorme, ma lavorando insieme la possiamo vincere. Credo che sia lo slogan migliore per sancire la carta e firmarla tutti quanti insieme. Ha signat la Carta Europea de Governança Territorial i Alimentària a Barcelona en data 24 novembre 2011, José Uribe, presidente del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Josep Llobet, president delegat de l'Àrea Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Jordi Sala, director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya, Christian Burr, de la Comunità d'Aglomeració del Pai d'Ex, Christine Joy, co-president de l'Associació de Desenvolupament de l'Agricultura a l'EI de Granopla a DEC, Ronan Rovil, vicepresident de Desenvolupament Econòmic de la Comunità d'Aglomeració del Pai Wagoner, Marco Balanya, diputat de l'Agricultura en muntanya i parc i àrees protegides de la província de Torino, Simon Bezzini, president de la província de Siena, Constantino Zerbas, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tessalònica i Sofia Caidu Andreu, vice-rectora de la Universitat Aristòtel de Tessalònica. Gràcies. Gràcies.